Consigliere di Benedetto, ieri sera c'era in programma il Consiglio Comunale di Canicazzi, diversi punti all'ordine del giorno, l'ultimo dei quali era anche importante che era l'approvazione del progetto definitivo relativo alla sistemazione delle strade di Contata-Giarre e secondo stralcio di completamento. Invece, nulla di fatto, l'ennesima farsa, la possiamo definire così? Sì, ieri sera oltre a questo punto c'era anche un altro punto all'ordine del giorno molto importante che era l'elezione del Collegio dei Revisori. Io e gli altri consiglieri di minoranza, alcuni almeno, eravamo presenti, mancava il numero legale. Beh, per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, se qualche giorno in più può servire, spero, per trovare persone veramente all'altezza di ricoprire questo ruolo, potrebbe anche andare bene. Per quanto riguarda quel punto, ti devo dire che, per quanto riguarda l'opposizione, saremo vigili, saremo duri, perché noi su questo punto ci vogliamo vedere chiaro. Il Consiglio Comunale precedente, al momento dell'approvazione del Piano Tribunale delle Opere Pubbliche, aveva statuito che determinate somme dovessero andare per il completamento delle opere subito dopo l'ospedale in Contata-Giarre. Non è stato fatto, ora ci ritroviamo con una variante urbanistica da approvare in Consiglio Comunale, ci ritroviamo con prezzi che sono aumentati, espropri che non sono stati fatti. Vogliamo capire, intanto le somme dove sono andate a finire quelle che erano destinate per quest'opera. Vogliamo capire perché quest'opera non è stata fatta quando è stato approvato il Piano Tribunale delle Opere Pubbliche e il punto era ai primissimi posti. Insomma, vogliamo capire a che gioco stiamo giocando, perché la dobbiamo smettere con un'amministrazione che non tiene assolutamente conto delle leggi e di quello che istatuisce il Consiglio Comunale. Hai voglia poi riempirci la bocca a fare settimana della legalità, quando la legalità in questo comune è assolutamente latetante. Consiglio Petro, cosa pensa della delega che ha ritirato l'assessore Capobianco, il sindaco? Intanto partiamo da un presupposto. L'assessore Capobianco è stato a mio giudizio sacrificato all'altare della verginità. Mi spiego meglio. Diciamo che la corda del patibolo già pendeva sul collo dell'assessore Capobianco da mesi. Ricordo che alcuni mesi fa in un Consiglio Comunale è venuto fuori quello che io definisco un letamaio che alloca in questo settore, che è quello della solidarietà sociale, che è tra l'altro sotto la lente di ingrandimento dall'autorità giudiziaria. Il sindaco con una semplice operazione di facciata ha tolto un componente di quella che ufficialmente si chiama aggiunta, ma a mio giudizio è solo esclusivamente un'agenzia interenale per l'occupazione dei lavoratori atipici, uno stipendificio, ha voluto rifarsi la verginità. È come quando uno ha la casa piena di umidità e gli dà solo una tinteggiatura alle pareti. Questo è un modo, a mio giudizio, ridicolo di fare politica, perché vedete che presto verrà fuori, come in questo Consiglio Comunale, soprattutto da parte della maggioranza, e di qualcuno che una volta si chiamava Cespuglio, ma ora non è più Cespuglio perché è ufficialmente condigo alla maggioranza, vedete che verrà fuori come tutti hanno pescato in questo mare magnum della solidarietà. Qualcuno ha dato sussidi a parenti, amici, non lo dico io, lo dicono le carte, c'è una inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria, quanto prima qualcosa si saprà. Sessore Capobbianco, qui vale la mia stima, il rispetto, è stato sacrificato sull'altà della legalità. Il sindaco poteva benissimo scegliere uno degli altri componenti di questo stipendificio che alloca la ingiunta e non fa niente, abbassa solo la testa e la cui presenza, a mio giudizio, è assolutamente non indispensabile. Lui ha voluto, sacrificando l'assessore Capobbianco, dire a chi di dovere, vedete, io siccome sono per la legalità, vi do la testa dell'assessore Capobbianco perché ci dobbiamo rifare la virginità e non è successo niente perché io al momento opportuno sono intervenuto. No caro sindaco, quanto prima queste cose verranno a galla. Verranno a galla perché lei e la stragrande maggioranza dei consiglieri di maggioranza dovranno spiegare, ma ripeto non lo dico io, ma lo dicono le carte, c'è un'inghiesta dell'autorità giudiziaria di come sono stati allocati certe volte delle borse lavoro e dei sussidi.